Cari amici, eccoci qui quest'oggi per un evento davvero importantissimo e da non perdere. Segnarvi questa data, 19 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore 13 e 30, attraverso il progetto alternanza scuola-lavoro tra scuola Corsaro, istituto Aldomoro Trani, istituto alberghiero Aldomoro Trani e legambiente Trani e anche con il dipartimento di salute mentale di Trani il caffè Corsaro presenta aperitivo al caffè Corsaro con i seguenti servizi in zucchero filato 2 euro, tris di birra artigianale Sbam 10 euro caffè Royal con versione natalizia 1 pezzo 6 euro, 2 pezzi 10 euro poi vedo questa fotografia, posto una foto con Babbo Natale, ricordiamoci hashtag caffè Corsaro e riceverai un goloso omaggio, estrazione importantissima per vincere una macchina da caffè, estrazione, ascoltate bene, dal 21 dicembre, martedì 21 dicembre che andrà in riferimento alla lotteria vera, all'estrazione ruota di Bari ci sono 5 premi a disposizione, per prendere un numero, quindi un bigliettino al costo di 3 euro, 2 biglietti, 2 numeri, 5 euro, docci artigianali, vassoio 5 euro, cantine in lugno e su confezione natalizia, bianco più rosso 19 euro, tris con vino bianco rosso e moscato a 35 euro, moscato di Tragna a 17 euro, taralli 2 euro e 50, taralli direttamente provenienti dalla cooperativa e l'azienda Campo del Miracolo di Gravina in Puglia, 5 pacchi 10 euro, quindi ragazzi che dire, non perdete questo grandissimo aperitivo, iniziativa solidale, natalizia, chi più ne ha più ne metta, noi ci vediamo alle prossime occasioni e non mancate, ve lo ricordo ancora una volta, domenica 19 dicembre 20, 21, dalle ore 9 alle ore 13 e 30, ciao!